Ciao amici di Maggiolina, lavoriamo con la finestra ExploraFile o questo PC del nostro computer, ma ExploraFile è il nome giusto, e vediamo la nuova finestra di Windows 11 dopo l'ultimo ennesimo aggiornamento. Quindi vado ad aprire ExploraFile, eccolo qui in basso per me, premo, si apre ExploraFile e finalmente, anche per me, come è accaduto da alcuni di voi, è cambiato il contenuto della finestra questo PC. Allora, ho aperto ExploraFile sul mio computer e si apre in questo PC, per mia scelta ExploraFile si apre in questo PC. In questo PC ora ci sono solo le unità a disco, come era in passato con i vecchi Windows, dove allora questa schermata si chiamava risorse del computer. Quindi ora, in questo PC, ci sono mostrate solo le risorse del computer, ovvero i dischi da cui posso andare ad attingere per prelevare i miei file, aprirli, spostarli, eccetera, eccetera. Attenzione che non tutti i computer si aprono in questa schermata, questo PC, ma molti computer si aprono nella schermata Home, che adesso andiamo a vedere. Questa è la schermata Home, premo, e molti computer, o meglio tutti i computer di standard, si aprono in questa schermata, dove adesso sono state trasferite le cartelle che prima erano in questo PC, ovvero desktop, download, documenti, immagini, musica, video, più quelle che vado a mettere io selezionandole appositamente. Quindi è cambiato il modo di usarlo. Ho visto molte persone che si sono create un po' di difficoltà per questo cambiamento, ma niente di che, semplicemente si è cambiato il modo di usarlo. Allora, e come voglio regolarmi io adesso che è cambiata un po' questa cosa? In questo modo. Allora, chiudo, così ripartiamo da capo. Esplora File, eccolo qua, lo apro, mi trovo in questo PC, mi sta bene, a me piace vedere i dischi subito, poi con l'uso del computer nel tempo deciderò se cambiare schermata, e tutte le cartelle che trovavo prima, documenti, immagini, video, eccetera, che uso comunemente, le vado a prendere semplicemente da qui. desktop, download, documenti, immagini, queste sono le cartelle che io ho fissato in primo piano da cancellare esercizi nuovi, sfondi amici, miniature, shorts, e poi musica e video. Quindi quello che prima era qui sopra, adesso continua ad essere qui sulla sinistra, c'era anche prima, e adesso lo uso da qui. E quindi se devo andare in documenti, premo su documenti da qui, dove è? Documenti, eccolo qui, e ho i miei documenti, se devo andare in video, premo su video, se devo andare in musica, premo su musica, eccetera, eccetera. E quindi sono a posto così, qui torno in questo PC e qui ci sono tutti quanti i miei dischi, quindi semplicemente lavoro in questo modo. Diversamente potrei scegliere la schermata Home, eccola qua, dove ci sono le cartelle che ho scelto io, più queste cose qui che a me non piacciono. Quindi approfittiamo di questo momento per fare un giro, per cercare di gestire al meglio questa schermata. Allora, vado sui tre pallini per regolare questa cosa, e devo dire che queste cose che facciamo valgono anche per Windows 10. Quindi nel mio caso tre pallini, in Windows 10 tre pallini non ci sono, non mi ricordo cosa ci sia al suo posto, ma devo andare a scegliere opzioni. Per cui tre pallini, opzioni, e apro questa schermata. Questa schermata decide un po' come si presenta il mio Esplora File. Allora, all'apertura di Esplora File, che cosa ti mostro? Questo PC oppure la schermata Home? Quindi è una scelta mia, voglio questo PC o voglio la schermata Home? Va bene, dai, metto la schermata Home, quindi cambiamo, dico Applica, così ho fissato questa modifica, e da adesso in poi, quando apro Esplora File, troverò la schermata Home, con i miei documenti, con le immagini, con i video, eccetera. Bene, cos'altro posso fare? Beh, innanzitutto posso scegliere quello che mi viene mostrato in schermata Home. A me non piace vedere queste cose. I file recenti li trovo inutili, perché non mi piace come funzionano, e anche i preferiti li trovo inutili, tant'è che io qui non ho dentro niente. Quindi vado a dire di togliere i file recenti. Quindi mostra file usati di recente. No, perché io non voglio vedere questi file, perché se io uso i file recenti, non ho la certezza del percorso, o meglio, il computer mi mostra i file recenti, ci clicco sopra, lo apro, eccetera, ma io dimentico dov'era quel file lì, se lo apro sempre da qui. Io devo sapere in quale cartella questo file è posizionato, e quindi devo andare a prenderlo sempre da là, secondo me. Dico applica. In questo modo i file recenti se ne sono andati, perché ho scelto di non vederli più. Poi mostra cartelle usate di frequente, quindi cartelle che uso spesso. Mostramele qui. No. Se uso una cartella spesso, allora la fisso di mia volontà, come cartella da mettere in primo piano, perché è di utilizzo importante per me, con questa puntina, poi ti mostro come si fa, quindi tolgo il mostra e cartelle usate di frequente, e tolgo anche mostri file da office.com, perché non lo uso, quindi non voglio vedere questa cosa. Ho premuto su applica, e poi premo su ok. Chiudo la finestra e sono pronto. Vediamo che cosa abbiamo fatto. Quindi chiudo tutto, apro esplora file, e adesso i miei file sono tutti qui. Eccola qua. Queste sono le mie cartelle di accesso rapido, come è giusto chiamarle. Qui ho documenti, ho immagini, ho musica, video, eccetera, e posso andare a lavorare comunemente su queste cartelle, le trovo subito. È un po' un doppione, perché sono le stesse cartelle che ci sono qui, quindi tutto sommato io preferisco questo PC, ma ci sta lavorare in questo modo. Allora, come faccio ad avere queste cartelle sempre belle in vista? Ad esempio, vado a cercare una cartella del mio computer, allora vado in immagini, eccola qua, e decido che una cartella specifica per me è importante, e la uso sempre, sempre, sempre. Allora, scegliamone una a caso, in questo caso, questa abbonati. Allora, questa cartella qui, la voglio tra le cartelle in primo piano, recenti, adesso non mi ricordo già più come si chiamano, e quindi faccio tasto destro del mouse e vado a dire, ecco, aggiungi ad accesso rapido. Quindi questa cartella viene fissata e va a finire in accesso rapido, quindi va a finire in questo elenco. Abbiamo detto che si chiama abbonati, eccola qui. Vediamo se funziona. Chiudo tutto, vado ad aprire Esplora File, e a questo punto adesso c'è anche la cartella abbonati, e a questo punto c'è anche la cartella abbonati. Quindi ho messo qui, tra le cartelle di accesso rapido, quindi desktop, download, documenti, immagini da cancellare, eccetera, eccetera, la cartella abbonati. Non mi interessa più, quindi tasto destro del mouse, rimuovi da accesso rapido. Lo faccio da qui, ma potrei farlo anche da qui. Tasto destro, sì, posso farlo anche da qui, rimuovi da accesso rapido, e torno alla normalità. Ok, quindi questa era una regolazione. Andiamo a vedere altre cose che posso fare. Quindi, tre pallini, opzioni, voglio tornare a questo PC, tutto sommato io preferisco così, quindi qui premo, e dico questo PC, e poi applico così. Questa modifica è stata applicata, e io sono ancora in questa schermata. Non posso fare altre modifiche, senza chiudere, riaprire, eccetera, eccetera. Una cosa importante, questa qui, apri le cartelle in una sola finestra, apri cartelle in finestre separate. Cosa vuol dire questa cosa? Allora, cambiamo, così lo proviamo. Apri questa cartella in finestre separate, dico ok, chiudo tutto, perché la proviamo da zero, questa funzione. Allora, esplora file, mi apre una finestra. Eccola qua. Se adesso vado ad aprire sfondi amici, clicco qui, vediamo se si apre, ok, è sparito questo PC, da questa schermata, e adesso ho sfondi amici. Quindi, se agisco qui, non cambia niente. Ho perso, non vedo più il contenuto della cartella precedente, ma vedo questa. Se voglio tornare al contenuto della cartella precedente, premo questo PC, ed eccomi qua. Però non vedo più amici. Se invece premo su sfondo amici, eccolo qua. Ok, cosa succede però, dopo la modifica che abbiamo fatto poco fa, se io vado a premere su sfondi per smartphone, clicco due volte, si apre una seconda finestra. guarda, se io mi sposto, eccola qui. Quindi adesso, tutte le volte che io premo dentro a una cartella, quindi non qui sulla barra laterale, ma all'interno della mia cartella, e premo su una cartella, mix sfondi, clicco due volte, si apre un'ulteriore finestra. Eccola qua, questa mix sfondi è vuota. Adesso ho tre finestre aperte, te le faccio vedere. Eccole qua, una, due, tre, sfondi amici, sfondi per smartphone, e mix sfondi. Quindi tre finestre aperte. Vuol dire che quando io scelgo una nuova visualizzazione, non perdo la precedente, perché magari mi serviva. Devo fare il copy and colla, spostare una cosa da qui a lì, per trascinamento magari, in questo modo sono facilitato ad usare le finestre. Di solito questa impostazione non si tiene, perché crea molta confusione. Tutte le volte che apro una cartella, si apre una nuova finestra. Quindi finisco per avermi 5 o 6 di finestre in giro nel mio computer, e devo imparare a gestirmi con queste finestre. Quindi devo posizionarle, devo chiuderle, devo avere una certa pratica di gestione delle finestre, e può essere un buon modo per imparare a usare bene il computer. Di fatto però è più pratica l'opzione a finestra singola. Quando apri una cartella, la finestra ti mostra il contenuto della nuova cartella, e basta, rimane una finestra unica. Quindi andiamo a fare questa modifica. Chiudo, chiudo, resto in questa, da qui posso comunque andare sui tre pallini, opzioni, e dire ok, no, rimango con una sola finestra. Lavoro a finestra singola. Dico applica, e ci siamo. E questa modifica è fatta. Un'altra cosa che posso modificare è questa. Allora, qui un click per aprire l'oggetto, passaggio del mouse per selezionarlo. Sono una persona che fa fatica a fare il doppio click. Caspita, non riesco mai a fare il doppio click, e mi trema la mano, e mi scappa, eccetera, ho regolato il mouse e tutto quanto, ma ragazzi, non ce la faccio. Allora passo a un click solo. Quindi dico un click per aprire l'oggetto.